Giovedì 17 ottobre, rieccoci, ben ritrovati, buongiorno soprattutto, il nostro appuntamento del mattino con la Rassegna Stampa. Andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani stamane, quali sono i titoli in primo piano, i titoli in prima pagina, scopriremo come sempre quali sono gli argomenti principali, i temi caldi di questa giornata, di questo giovedì. E allora cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano La Sicilia, anche oggi una ricca prima pagina, Bestie, questo uno dei titoli, serie di intimidazioni a Santa Maria di Licodia contro un imprenditore agricolo paternese uccisi, pensate un po', i cani della Pet Therapy per il figlio. Vedete questa immagine, forte tra l'altro, scelta stamane dal quotidiano La Sicilia. Emergenza siccità, alta tensione tra Musumeci e il governatore siciliano Schifani, il ministro, piano di interventi non ancora restituito a Roma, la replica del presidente Schifani già avviata da tempo la seconda fase. Regione, primarie aperte, PD e Movimento 5 Stelle glissano, ma non rompono, sì, mai con Cateno De Luca. E poi DDL enti locali, ARS, maggioranza in confusione, quota erosa al 40%, norma affossata. Si parla ancora della manovra con Giorgia Meloni, vedete che la difende, è detta la linea, niente nuove tasse, fondi alle famiglie, queste le parole della Premier. Mentre per quanto riguarda sempre la manovra relativa però alla sanità, i medici sono pronti alle barricate. L'asse Roma-Tirana, in questo caso si parla di migranti, scontro in Europa, sponda Fonderlein per il modello Albania. In taglio laterale, uccide la moglie mentre dorme e chiama i carabinieri, agrigento sotto shock, il fatto non è avvenuto in Sicilia ma la donna è siciliana. Licata invece, salazioni tossiche dopo l'incendio in deposito rifiuti, in due finiscono in manette. Andiamo in taglio alto. Eccolo Papa Francesco, la sua autobiografia, per la prima volta un pontefice, si racconta tra le pagine di un libro. Giro delle città, partendo da Catania, molti servizi caos, è saltato il CDA, incidente all'alba invece traffico in tilt, per ora è sempre, in questo caso notizia che arriva da Catania. Bronte, attesa finita, assegnati 60 alloggi popolari e poi cronaca da Letoianni, siamo del messinese, arrestato per spaccio un 33enne di fiume freddo. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, andiamo a vedere cosa ci propone stamane in prima pagina il giornale di Sicilia, sono anche qui tanti temi affrontati, andiamo a vederli nel dettaglio. Nessuno vuole la casa tolta al boss. Nell'immobile di via De Collati, confiscato ad Algeria, arriva la rinuncia della quarta famiglia. Parla, il sacerdote dello Sperone, siamo ovviamente a Palermo, lo Stato ha perso, queste le parole del sacerdote. Ancora cronaca, droga a fiumi nel quartiere, 100 euro per un turno di spaccio, questi retroscena del blitz sempre a Palermo e sempre a Palermo in pieno centro storico, rapine violente per pochi spicci, arrestata una baby gang, sono tutti giovanissimi, ci sono dei minorenni e ci sono anche delle ragazzine. Lombardo, siamo al 10% con la galla e l'aiuto di Miciche, parla il leader dell'MPA ieri a Palermo, grandi manovre nel centrodestra, la politica dunque in primo piano sul giornale di Sicilia e anche sul giornale di Sicilia c'è, vedete, un sorridente Papa Francesco, il Papa che si rivolge alla Sicilia, imita i tuoi martiri antimafia. Il video messaggio di Papa Francesco per l'apertura dell'anno della facoltà teologica. Andiamo in taglio laterale, meloni, manovra seria, smentiti i tagli alla sanità, sempre di spalla, ospedale cervello, siamo sempre ancora a Palermo, per il medico pestato, 5 anni all'aggressore e poi polemica per quanto riguarda la questione siccità, un botte e risposta tra il ministro Musumeci e il governatore siciliano Renato Schifani. Andiamo in taglio alto, ecco diverse, il nuovo album di Dell'Avanoni ha 90 anni, dunque un nuovo album per lei e poi cambia l'ingresso a medicina, dio ai test, dal 2025-2026, chiaramente la facoltà di medicina, si parla di università balestrate, prende il via Sicili, o meglio Sicili, questo è il gioco di parole, da oggi a domenica in mostra è la meglio della nautica, si tratta della settima edizione, le novità per i diportisti, chiaramente poi l'approfondimento all'interno dell'edizione odierna del giornale di Sicilia. Noi proseguiamo invece con la nostra rassegna stampa, restiamo ancora nell'isola, questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud che apre con una notizia che riguarda Messina, dove vedete cambia l'affaccio a mare. Assegnata la gara di progettazione esecutiva per il nuovo waterfront tra i torrenti annunziata e boccetta per il porto di Tre Mestieri, nominato commissario l'ingegnere di Sarcina. Altre notizie che riguardano sempre Messina, in questo caso in taglio centrale, si parla però di cronaca, la rissa a Villa Dante aperta un'inchiesta, polizia locale al lavoro per cercare di fare chiarezza su questa rissa che ha visto coinvolti alcuni giovani, mentre un palermitano è stato arrestato sempre nel messinese, aveva con sé 37 kg di ascice, non solo perché era anche in possesso di due pistole clandestine, ovviamente sia la droga che le armi sono state poi sequestrate dalla Polizia di Stato. Fondi, sanità, i medici contro la manovra del governo. Se per il 2025 saranno destinati al settore 880 milioni ci troveremo di fronte a una scandalosa mistificazione. cifre differenti per il MEF, in più 2,3 miliardi, mai così tante risorse, invece dichiarato una soddisfatta Giorgia Meloni a proposito della manovra. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, lasciamo la Gazzetta del Sud, vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina Repubblica, ma nello specifico l'edizione di Palermo. donne nelle giunte, il grande blef, sottolinea Repubblica, centrodestra in lite sulle norme che aumentano le poltrone, ritirato il DDL sugli enti locali, così cade anche la disposizione che allinea la rappresentanza di genere al resto d'Italia. Ed eccoli invece la Presidente Schifani, l'ex governatore, adesso ministro, nell'Omusumeci, si parla anche qui di emergenza idrica, mai così poca acqua nelle dighe, Schifani-Musumeci scontro sui fondi, come abbiamo visto prima, il botta e risposta 3-2, prima l'accusa, tra virgolette, da parte del ministro Musumeci, poi la replica da parte invece del governatore Renato Schifani. Notizia da Palermo, declino e affari di Via Roma, sul mercato 5 palazzi storici e poi ancora il teatro, quattro nomi per il biondo, derby nel centrodestra tra Lazzareschi e Santoro. Mentre stamane si parla anche di cultura, allora all'interno di Repubblica Palermo poi tutti i progetti di Agrigento, Agrigento nominata capitale italiana della cultura, mancano due mesi e mezzo a questo grande evento e certamente anche una grande responsabilità per una città splendida come Agrigento, sono tanti i progetti in cantiere per valorizzare il territorio. Lasciamo Repubblica a Palermo, restiamo però sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale, si parla tanto di manovra legata però alla questione sanità, no vedete da parte dei medici, i sindacati ospedalieri contestano i fondi insufficienti, pronti alla protesta, le parole della leader del PD Elislein nel 2025 sono 900 milioni, meloni, la salute è una nostra priorità, aumentiamo le risorse, tasse calano le detrazioni per chi non ha figli. Maternità surrogata, reato universale, l'opposizione dice è un fatto aberrante, una decisione aberrante. Lasciamo Repubblica, siamo sul Corriere della Sera, famiglie e single cambia il fisco, si parla anche qui di manovra, il MEF ai camici bianchi sono stati stanziati 2,3 miliardi, detrazione e bonus diversi, tetto al reddito, scontro sulla sanità, come abbiamo visto i medici protestano, conti in ordine, senza nuove tasse invece dichiarato Giorgia Meloni. Qui in Sicilia si parla ancora di emergenza siccità, di temperature ancora alte, ma vedete il meteo invece impazzito, in questo caso al nord, fiumi esondati e frane allarme in Liguria, dirottati due voli per Genova, oggi scuole chiuse nelle città, dunque ancora siccità, ancora caldo in Sicilia o comunque in generale al sud, ma al tempo invece con danni e preoccupazioni al nord. Lasciamo il Corriere della Sera, questa è la prima pagina del quotidiano La Stampa e l'argomento di riferimento è lo stesso, vero manovra e sanità, perché scontro in questo caso sulla sanità con i medici in rivolta, il tesoro, i fondi ci sono, fatto il massimo, dice Giorgia Meloni, banche solo anticipi di cassa. Del documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles, solo 900 milioni di euro per la salute, destinati dunque alla sanità. Dalla stampa al giornale, anche qui la manovra trova ampio spazio, meno sprechi e meno tasse, Meloni e Giorgetti spiegano la manovra, tagli ai ministeri, restano le detrazioni sulla seconda casa, i sacrifici non li faranno solo gli operai. La Premier, come abbiamo già visto anche dalle sue stesse dichiarazioni, è soddisfatta di quanto realizzato. Finisce invece il business degli immigrati via il protocollo con l'Albania, molti paesi guardano all'intesa con interesse, ha dichiarato Giorgia Meloni, è soddisfatta anche di questo modo di operare, insomma anche Ursula von der Leyen che ha già esternato il suo parere positivo a proposito di questa gestione, di questo protocollo tra Italia e Albania per quanto riguarda il tema dei migranti. Casa Bianca contro Stellantis, adesso rispetti gli impegni, gestione sotto accusa e poi i PM condannati ma sempre in carica Spadaro e De Pasquale. Questi fondamentalmente gli argomenti in primo piano sul giornale Nedicola stamane e poi come sempre per approfondire i vari temi vi rimandiamo all'interno, nelle pagine interne dei vari quotidiani. Dal giornale al Fatto Quotidiano anche qui si parla di migranti, la campagna di Albania, tornano 4 migranti su 16. Governo ridicolo, scrive il Fatto Quotidiano, 2 sono minorenni e 2 vulnerabili. a proposito di questi 4 migranti, vedete, tornati 800 milioni buttati, subito dopo averli traghettati a Tirana si scopre che non potevano stare lì e metà degli 800 posti promessi non ci sono. Vedete il Fatto Quotidiano insomma critica invece questa campagna di Albania così viene definita a proposito di migranti. Andiamo avanti, lasciamo il Fatto Quotidiano, vediamo cosa ci propone. Invece stamane in prima pagina il Quotidiano, il Messaggero, vediamo quali sono gli argomenti trattati, i titoli in primissimo piano. Meloni, fondi record alla sanità, manager pubblica amministrazione, scure sugli stipendi. Conti in ordine senza nuove tasse ha dichiarato la Premier ma i camici bianchi protestano. Vertice a Bruxelles con Salvini e Tajani, Giorgetti, sacrifici per banche e assicurazioni. Maxi tagli alle detrazioni fiscali e bonus produttività per gli statali, il piano riforme trasmesso a Bruxelles e poi addio ai test d'ingresso a Medicina, la selezione dopo il primo semestre. L'obiettivo è partire dall'anno accademico 2025-2026. Violate le password di 46 procuratori, c'è anche Cantone, si allarga l'inchiesta hacker di Roma, Sgomento, del PM di Perugia che indaga sui dossieraggi politici. Spazio anche al cinema, festa al via con Berlinguer, si apre l'edizione Colossal con Elio Germano nei panni appunto di Berlinguer, del segretario del partito comunista italiano. Dal messaggero alla prima pagina del mattino, il super spione che beffava i PM. L'inchiesta di Napoli, l'hacker romano aveva la password di 46 magistrati, tra cui Gratteri e Cantone. Nuove accuse della procura ha copiato la banca dati di tutti i magistrati italiani. Misure per il ceto medio-basso, arriva la manovra, tagli alle detrazioni fiscali e bonus produttività per gli statali, la Premier fondi record per la sanità, ma i medici sono tutt'altro che d'accordo con Giorgia Meloni e come abbiamo visto anche in altri quotidiani sono pronti alle barricate, sono pronti a protestare. Lasciamo anche il mattino, questa è la prima pagina del Quotidiano Libero, anche qui si parla tanto della manovra della Rissa, anzi sulla manovra scrive Libero, meno tasse la sinistra piange, questo è il titolo, continua la campagna, suon di bufale, DPD e 5 Stelle, smentiti sugli aumenti di imposte, inventano numeri sulla sanità e si lamentano perfino per i tagli ai ministeri. Bonus casa, assegna le famiglie e pensioni, ecco tutte le novità per i contribuenti. E poi la questione migranti, puntavano Lampedusa, adesso invece sono in Albania i primi migranti trasferiti nei centri costruiti dall'Italia grazie a questo protocollo appunto tra il nostro paese e l'Albania. Parliamo di sport, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani, partiamo dalla Gazzetta dello Sport che pone l'accento, accende anzi i riflettori su una calciatore della Juve, ovvero Paul Pogba che dice voglio la Juve, il doping, il ritorno, le sue verità, dunque Pogba pronto a rientrare, saggio e forte, dice mi sento nuovo per restare alla Juve, ovviamente rinuncerei a dei soldi, Motta giudicherà con i suoi occhi, dunque Pogba intenzionato, vedete, a riprendersi il suo ruolo da calciatore dopo i problemi avuti, i problemi legati al doping. Dalla Gazzetta ci spostiamo invece su tutto sport, anche qui si parla di Juventus con una intervista a Tudor che dice Vlaovic segnerà 30 gol, Dusan e Super, sì qualche volta sbaglia però vedrete quanto segnerà Lazio forte, Juve di più, sabato vince e contenderà lo scudetto all'Inter, Douglas verrà fuori anche Platini faticò, insomma Tudor vedete fiducioso sia per quanto riguarda Vlaovic ma anche per Douglas Luiz, altro giocatore attualmente piuttosto criticato da parte dei tifosi bianconeri. Chiudiamo con il Corriere dello Sport, l'Inter sorpassa in milioni, sorpassa in questo caso la Juve dopo ben dieci anni, cambia la leadership del Monte Ingaggi. Nerazzurri a quota 142 milioni, Juve 114 con Vlaovic che pensate un po' costa più di tutto il Lecce. Milan al terzo posto con 97 milioni, questa dunque è la classifica del Monte Ingaggi per quanto riguarda le big della nostra Serie A. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa, abbiamo fatto e concluso il giro delle varie prime pagine ma ormai lo sapete l'informazione non si ferma sui nostri canali, prosegue lungo tutto questo giovedì con le nostre varie edizioni di Spazio Notizia per tenervi sempre aggiornati e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi, a più tardi. Notizia per tenervi sempre aggiornati e grazie a tutti. No. 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 No.